Ma secondo te è possibile rubare tutti quanti i dati da un computer che è disconnesso da internet e si trova in una stanza sempre chiusa e praticamente blindata, le cui chiavi si trovano costantemente in possesso del titolare dell'azienda. Ma non solo. È possibile fare tutto questo senza nemmeno toccare il computer? Ebbene, a quanto pare sì, perché qualche hacker estremamente fantasioso ha trovato il modo di farlo. Vediamo come, ma prima lasciami parlare un attimo con un mio amico. Hey YouTube, guardami, tutto quello che verrà mostrato in questo video verrà illustrato solo per scopi didattici. Non verrà mostrata nel dettaglio alcuna operazione in grado di danneggiare un computer e invito tutti quanti quelli che vedranno il video a non imitare queste operazioni perché ricordo che l'accesso abusivo ad un sistema informatico è un illecito penalmente perseguibile. E detto questo, se ti senti pronto? Iniziamo. Il 17 gennaio mattina alle sette e un quarto venivamo informati che 900.000 dati di accesso di italiani erano stati venduti nel market cinese che si chiama Quebec Market e con tutte quante le password. Peraltro l'articolo rileva che le password mediamente utilizzate dagli italiani sono abbastanza facili da eludere, ma delle password abbiamo già parlato. Il giorno dopo tuttavia si viene a scoprire che sono non 900.000 ma la bellezza di 25 milioni le credenziali vergini che non sapevamo che fossero state sottratte. Ma naturalmente passa qualche ora e le credenziali rubate diventano la bellezza di 71 milioni. Ma manca ancora la ciliegina sulla torta. E sì, perché due giorni dopo veniamo a scoprire che Microsoft è stata vittima di un cyberattacco da parte di hacker russi che hanno sottratto delle credenziali email interne di dipendenti Microsoft, ma il vero problema è che non si sa per quanto tempo abbiano avuto in possesso queste credenziali prima che Microsoft se ne accorgesse. Ma voglio parlarti di questo? Assolutamente no! Non è l'argomento del giorno ma te lo dico semplicemente perché purtroppo essendo state sottratte la bellezza di 71 milioni di credenziali ci sono buone probabilità che tra quelle ci siano anche le mie e le tue. Quindi il mio consiglio è quello di cambiare quanto prima tutte le password o almeno quelle più sensibili. Mi basta! Basta! Non ce la faccio più! Non disapporto più! Ehi c'è scassato! E sì lo so lo so lo so è noioso però è una cosa che secondo me andrebbe fatta. Ti premetto però tuttavia che entro la fine della settimana uscirò con un nuovo video in cui proporrò una soluzione davvero credimi definitiva al problema delle password. Ma non anticipiamo troppo e andiamo avanti col nostro lavoro. Devi sapere che c'è un mio cliente che tra le varie cose che fa ha un ufficio che si occupa di progettazione di parti di automobili e lo fa per una nota casa automobilistica straniera e molto spesso questi pezzi che vengono progettati sono per dei prototipi che sono quindi coperti da segreto aziendale. Per cui la casa automobilistica ha imposto delle specifiche molto stringenti per quanto riguarda la sicurezza per cui il server come ho detto in apertura si trova in una stanza blindata e tenuta sotto chiave non ha nessun collegamento internet verso l'esterno e le persone che lavorano in questo ufficio accedono a questa server in rete locale e sono a loro volta collegati su una intranet. Se non sai che cos'è una intranet te lo spiego subito. Puoi immaginare una intranet come una rete quasi completamente isolata verso l'esterno che fa comunicare tra loro le sedi interne dell'azienda e esternamente comunica solo ed esclusivamente con il server stesso della casa automobilistica su cui venivano caricati per l'appunto questi progetti. Ma a questo punto come si attacca un server del genere completamente disconnesso verso l'esterno e che comunque si trova in una stanza inaccessibile? E no caro Tom in realtà niente del genere perché è bastato un semplicissimo pendrive acquistato per circa 10 euro dal tabacchino di fronte. Quello che è successo è stato che alcuni mesi prima e per la precisione il giorno 28 di agosto come è stato ricostruito successivamente il signor Mario nome di fantasia è andato come al solito da bravo dipendente a svuotare la cassetta della posta fisica dell'azienda e al suo interno ha trovato un pendrive con la scritta foto vacanze 2023. A questo punto in ottima fede il signor Mario ha pensato che qualcuno nelle vicinanze avesse smarrito quel pendrive e che qualcun altro rinvenendolo glielo avesse infilato nella cassetta della posta in modo da farlo magari restituire al legittimo proprietario. Così il signor Mario ha avuto un'idea davvero ma davvero brillante. Ha preso il pendrive, lo ha infilato nel suo computer per vedere se riusciva a riconoscere dalle foto il legittimo proprietario dello stesso. Quando tuttavia il signor Mario ha aperto il pendrive al suo interno non c'era assolutamente nulla di sospetto neanche un file fuori posto solamente un gruppo di foto come queste che ho ricostruito e ti sto mostrando a puro scopo esemplificativo che ritraevano dei perfetti sconosciuti che si divertivano in spiaggia. Le foto si aprivano normalmente e non davano motivo di pensare ad alcunché di strano. Né il computer del signor Mario né gli altri computer dell'ufficio compreso naturalmente anche il server hanno dato segno di alcuna anomalia o malfunzionamento. Tutto funzionava regolarmente come un orologio svizzero fino a quando circa un mese dopo nella sede centrale della casa automobilistica si sono accorti di qualcosa di strano. A questo punto è stato contattato il titolare dell'azienda che a sua volta ha provveduto a contattare me ed un altro collega bravissimo per cercare di far luce su queste presunte anomalie. Ci è stato chiesto tuttavia di spacciare la cosa come un controllo normalissimo di ottimizzazione e verifica del buon funzionamento dei sistemi. Per cui siamo stati autorizzati oltre che sul server ad andare su tutte quante le singole postazioni a vedere se ci fosse qualcosa di strano. Ed effettivamente su quella postazione su cui era stato inserito il pendrive qualcosa di strano c'era. È stato notato infatti tramite uno sniffer di rete, un programma come quello che vedi adesso che si chiama Wireshark che va ad analizzare tutto il traffico in entrata e in uscita sia dalla rete sia dalle singole macchine una connessione assolutamente anomala che non era relativa a nessuno dei programmi abitualmente utilizzati da questa azienda. Naturalmente opportunamente interpellato il dipendente dell'azienda che evidentemente un pochino di coda di paglia ce l'aveva perché era stato opportunamente formato sul fatto di non aprire allegati strani di email e di non inserire pendrive sconosciuti nella macchina ci ha messo davvero poco a fare 2 più 2 e a consegnare il pendrive incriminato. Ma dal punto di vista tecnico com'è stata fatta una cosa del genere? Tutto quanto parte con un RAT ovvero un Remote Access Tool, uno strumento purtroppo disponibile per il download anche su internet e che una volta scaricato ed opportunamente modificato diventa praticamente invisibile per qualsiasi antivirus. Come puoi vedere il file risultante ha delle dimensioni davvero minuscole che gli consentono di fare la piccola magia che vedremo tra un attimo. E' infatti possibile utilizzando peraltro un software di uso comune come quello che ti sto mostrando andare a modificare il nostro file eseguibile dandogli in tutto e per tutto l'aspetto di una normalissima immagine andando successivamente a salvarlo e a modificarne il nome. Ecco fatto. Andremo quindi ad eliminare la parte .exe dal nome e il nostro RAT sembrerà in tutto e per tutto un'immagine e una volta lanciato quello che succederà sarà esattamente questo. Una volta installato su questa macchina è stato relativamente un gioco da ragazzi per il malware aprire un canale crittografato verso l'esterno. Avendo oltretutto tramite la macchina stessa l'accesso al server è stato possibile e sfiltrare una discreta quantità di dati fino a quando dalla casa madre non si sono accorti che qualcosa non andava. Gli insegnamenti che ricaviamo dal video di oggi sono due ma molto importanti. Il primo è quello di prendere la sana abitudine di cambiare spesso anzi spessissimo le nostre password, di utilizzare l'autenticazione a due fattori e di utilizzare naturalmente password sicure come abbiamo visto. Il secondo è quello di non accettare caramelle dagli sconosciuti. Come abbiamo appena visto un semplice pendrive è in grado di mettere in ginocchio anche una multinazionale come una casa automobilistica. Quindi massima prudenza nel momento in cui utilizziamo dispositivi esterni soprattutto se accettati da persone che non conosciamo oppure che non hanno una particolare attenzione alla sicurezza del loro computer. E veniamo ai ringraziamenti del giorno. Quest'oggi sono per Davide Barraco e Giorgio Brusasco per i loro generosissimi e devo dire anche immancabili super grazie. La gratitudine mia e di tutta quanta la community è per voi ragazzi. Altri ringraziamenti vanno invece ad Italo, Sandro Daddeo, didattica a distanza per tutti, Stefano Valmaggi per essersi abbonati al canale. Anzi Italo si è riabbonato quindi ribenvenuto. E infine un super ringraziamento specialissimo e devo comprarmi un cilindro in modo da potermelo togliere va a Red Joe Chili Peppers con tutta la gratitudine infinita che la community ha già per lui per essere l'amministratore del nostro forum, un moderatore del forum, una presenza stabile nel canale e diventato anche un distinto gentiluomo elevando il suo livello di abbonamento. Quindi caro Joe grazie infinite per il tuo supporto e per tutto il resto. E detto questo come sai l'ultimo ringraziamento è sempre quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e quindi non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.